Un saluto a tutti gli amici del canale YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proviamo Samsung Galaxy Grand Prime, la versione italiana, un nuovo smartphone marcato Samsung, 5 pollici di display e tante piccole novità. La prima cosa che salta all'occhio di questo grande Samsung sono i 5 pollici di display, comunque ha una buona risoluzione di 800x480 pixel, quindi leggermente superiore ai 720p, e una buona fluidità, un processore quad core da 1,2 GHz, 1 GB di RAM e è anche abbastanza leggero perché pesa 156 grammi. Due fotocamere, 8 megapixel e la secondaria da 5 megapixel che è davvero poca roba. Aneddoto importante del telefono è il prezzo, si trova sotto i 200 euro dai negozi fisici e sotto i 180 nei negozi online, ad esempio su Amazon. La fluidità è davvero uno dei punti di riferimento, nonostante il prezzo sia molto basso e andiamo a provare su internet come si comporta. Apriamo Repubblica, vedete che nella navigazione mobile non abbiamo praticamente nessun problema, andiamo a cercare la scheda desktop che avevo già messo, andiamo su Homepage Classica e proviamo la navigazione web. Non aspettiamoci il top di gamma di Galaxy S6 perché costa praticamente un terzo, qui ha qualche problema di caricamento, vedete è un po' scattoso. Le impostazioni intanto sono come su tutti i Samsung moderne, poche ma fatte molto bene, molto meglio rispetto alla concorrenza di iPhone. E guardate che per un telefono di 180 euro, anche qui la fluidità si va un po' scattosa, ma ricordiamo che Repubblica è un sito abbastanza pesante, quindi non facciamoci troppo caso. Ovviamente essendo un telefono Android ha tutte le applicazioni di Google, le solite Google+, le mappe, la musica, eccetera, eccetera, ma ovviamente essendo un telefono Android ha anche il Play Store. Play Store che ci permette di scaricare praticamente tutte le applicazioni che vogliamo, guardate nonostante sia un telefono che costi poco, come la fluidità non venga quasi mai a mancare, e possiamo anche scaricarci qualche gioco pesante, perché l'hardware di questo telefono è abbastanza buono, ricordiamo un quad cord a 1,2 GHz. Bella novità di Samsung, sono tutte le impostazioni che sono state completamente ridisegnate, vedete i colori, blu, arancione, rosso, verde, eccetera, eccetera, per dividere un po' le sezioni del telefono. La fotocamera, come vi avevo detto prima, è da 8 megapixel, quella posteriore, quella anteriore da 5 megapixel, quella posteriore ha un buon autofocus, applauso a Samsung perché praticamente tutti i telefoni medio-bassi di gamma fanno buone foto, le 8 megapixel sì, è buona, vedete un po' lentino a caricare, ma non è così reale come gli 8 megapixel dell'iPhone 6, per fare un stupid esempio, ma l'iPhone 6 costa molto molto di più. Comunque i dettagli di questa macro non sono affatto male, guardate la definizione delle viti, è proprio molto alta e nel complesso le foto non vengono affatto male. Ovviamente come in tutti gli smartphone Google ci sono le mappe che funzionano bene, la velocità di gestione del GPS è molto molto buona, con un doppio tap anche appena carichiamo le mappe riusciamo praticamente ad avere una visione abbastanza precisa, con un doppio tap zoomiamo e torniamo indietro senza particolari problemi, davvero ottimi passi in avanti per i base di gamma di Samsung. Era da un po' che non provavo un telefono Samsung base di gamma così funzionale e veloce, sarà perché sia per il design squadrato, appuntito, in certi punti mi ricorda molto il Galaxy S2 e la sua infiudità, la battega sì, dura una giornata tranquilla, non chiediamo troppo a questo smartphone, e finalmente Samsung ritorna sui base di gamma con impegno e con tanta velocità e infiudità, ovviamente gli aggiornamenti sono garantiti. Per un prezzo di 180€ va più che bene, è un ottimo smartphone, per questo rapporto qualità-prezzo davvero consigliatissimo. Io vi ringrazio per essere stati ancora con noi e con questo Galaxy Grand Prime, ecco forse il nome è un po' troppo complicato, difficilmente ce lo ricorderemo. Io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo tutti in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!